L'Unione fa la forza, recita il saggio, ma è come adesso il Consiglio si rivela prezioso. Montesilvano decide allora di organizzare una notte dedicata allo shopping che coincide con l'avvio dei saldi e soprattutto con il bisogno di aumentare gli introiti per gli esercenti. L'idea appunto che i commercianti si mettano insieme per organizzare queste belle manifestazioni la dice lunga su quanto si sia capito il momento che si vive e quanto sia importante fare sinergia. Quindi ulteriore possibilità di lavoro per le attività commerciali del nostro territorio e anche la possibilità per la cittadinanza di poter godere di una serata in tranquillità con una strada chiusa, con la possibilità di passeggiare tranquillamente con la famiglia al centro di Montesilvano. La formula utilizzata prevede l'unione di oltre 100 esercenti della principale via dello shopping Corso Umberto. Ognuno di loro infatti ha contribuito con una spesa di 50 euro. Il sostegno dell'amministrazione comunale che da un lato si è fatta carico delle spese relative alla SIA e dall'altra non ha chiesto quelle dell'occupazione del suolo pubblico oltre ad aver messo a disposizione 500 euro. E infine tutto l'impegno a realizzare spettacole e idee per attrarre pubblico. In concomitanza dell'evento infatti si svolgerà la Sagra di Sant'Antonio. Un'offerta che punta a soddisfare tutti i gusti e l'appuntamento è per sabato 11 luglio. Ogni tanto si legge una leggera ripresa. È cambiato il metodo di fare acquisti del consumatore e quindi i commercianti si riorganizzano. Quelli più capaci e più volenterosi si riorganizzano anche con questo tipo di attività per cercare di recuperare quel gap che purtroppo non abbiamo e non avremo nei prossimi anni.